Il cibo era più buono. Beh, tutto era più buono. Direi che è aggradito. È la miglior torta che abbia mai assaggiato. È assurda. Spero sia una buona cosa. Sì, sì, assurdamente buona. Ok, fanno 60 centesimi. 60 centesimi, ok. Ok, certo. Ehi, venga il resto. Oh, grazie. Dirò a mia madre che ha aggradito la torta, signor... Signora Emerson, sì, grazie. Alice. Lei è Alice, oh mio Dio. Qualcosa non va? Frequenta la South Lisbon High? Sì, mi sono appena diplomata. E di insegnare lì, vero? Oh no, dopo l'estate mi trasferirò a Bangor. E dopodiché? New York. Mia madre non lo sa ancora. Ok, beh, buona fortuna allora. Grazie. Può farmi un favore? Provi a rimanere dolce. Ok. Magari ci rivedremo. A presto. Magari ci rivedremo. Peranger.